Il tumore al seno può essere sconfitto nell'85% dei casi, fondamentale agire al suo insorgere. Ecco perché è importantissimo sottoporsi a controlli senza attendere il superamento dei 50 anni. La Liga Italiana per la lotta al tumore organizza il mese della prevenzione. Tutto il mese di ottobre è dedicato ai check-up gratuiti. L'invito è rivolto a tutte le donne. La Ligia di quest'anno a Pescara si articola in due momenti. Il momento delle visite gratuite che consentiranno di fare una diagnosi precoce è rivolta soprattutto alla fascia di età inferiore a 50 anni, fascia di età che non è coperta dagli screening nazionali e regionali, e alla fascia di età superiore ai 70 anni. E quindi inizieremo queste visite gratuite presso gli ambulatori della Lilt a Pescara in via Rubicone 15 previ a prenotazione telefonica. Un incontro speciale poi è in programma il 18 ottobre, proprio nella sede della Lilt Pescara, dove incontrare specialisti, esperti e donne che hanno vinto questa battaglia. Le donne sono molto più attente degli uomini nella prevenzione. Tuttavia, di tumore al seno si guarisce nell'85% dei casi. C'è un 15% dei casi che non guarisce. Questi casi sono soprattutto quei casi più avanzati, in cui non è stata fatta la diagnosi precoce.